e allora me l'avete chiesto eccolo qua l'altro giorno ve l'ho fatto vedere non il mio vi ho presentato un nuovo olmo alcuni di voi sono messi a piangere perché costa un po' questo costa un terzo di quell'altro quindi per chi vuole un bel ciocco con carattere, con corteccia con un piede così ok? piede così però basso così tozzo ok? questo fa il caso vostro ve lo faccio vedere 360 gradi ragazzi vi dico subito le cose come stanno a me non me ne frega un cazzo chi lo compra ok? e non me ne frega un cazzo neanche se lo comprate questa è la verità non me ne frega proprio un cazzo ok? perché? perché se mi rimangono prossimo anno le vendo ancora di più oh e in più io sono un bonsaista dei materiali così ragazzi diventano pezzi da collezione poi fra 3-4 anni quando sono belli che finiti facciamo tutti i rami non vi avvicinate più dopo a ste piante ve lo dico tranquillamente non me ne fotto un cazzo ok? cioè vi avvicinate però se tirate fuori la grana comunque fronte lato retro io qua farei un bello scavo ve lo dico subito ci sta da dio lato e questo è il fronte non potete sbagliare questo è il suo fronte è già in vaso è già messo nel fronte giusto che cazzo volete di più ha già l'apice qua sopra ha già tutti i rami e non lo so ragazzi io veramente non so che cazzo cercate volete spendere poco volete la pianta finita della vita io c'ho 200 euro voglio una pianta con un piede così tutti i rami già in vaso bonsai cazzo ma cazzo ma magari ma magari mi piacerebbe anche a me la figa di Belen ma purtroppo avete capito come funziona non tutto si può avere ok? soprattutto senza soldi con la figa di Belen piace a tutti no non a me non a tutti molti di voi so che vi piace invece la comunque ah ecco una cosa fondamentale piccola parentesi alcuni mi stanno scrivendo che non sono più contenti del mio canale una volta si vedeva che lo facevi con passione adesso invece lo fai solo per soldi no no cazzo io lo facevo per soldi anche prima ok? punto cazzo passione ma che cazzo passione cioè io in banca cosa gli porto? la passione? cioè sul conto corrente cosa verso? i mi piace? i commenti dei miei seguaci? le iscrizioni sul canale? cioè ma ragazzi ma voi siete fuori di testa? ma secondo me la gente perché si alza di mattina? e prende la macchina e va a lavorare per cosa? porca troia cioè è possibile che la gente che lavora deve essere sempre ostacolata a sto cazzo di paese? cioè non capisco bisogna avergognarsi di lavorare no ma l'altro canale non lo fa per soldi ma che cazzo non lo fa per soldi? sotto i link di amazon c'hanno sotto perché? perché fanno i video? la gente perché fanno i video ragazzi? perché vogliono iniziare a guadagnarci con questa cosa qui dopo c'è chi ce la fa cioè io e c'ho i mongoloidi che stanno lì prendono i 5 euro a fine mese va bene cioè ognuno farà il proprio corso ok? però qui il bonsaiista sono io e lo faccio per soldi perché lo faccio di lavoro e a fine mese ve lo ripeto ho provato ho portato in banca e mi piace le iscrizioni 21.000 iscrizioni sul canale le ho portate in banca le volevo convertire in euro e tipo mi ha cagato in bocca cioè mi ha fatto stendere si è messa sopra mi ha cagato in bocca era anche buona però capite ragazzi ma quanti anni avete? 6 anni? 5 anni? 3 anni? no dai cercate di capire che la gente si alza la gente lavora ok? ed infatti vi vendo una pianta non ve la regalo ok? comunque il prezzo è buono questa pianta qui quindi scrivetemi in privato perché acquistare un olmo primo non un olmo qualsiasi perché gli olmi cinesi ragazzi non sono come questi un olmo campestre dei nostri ok? i nostri perché acquistarlo? primo sono piante super resistenti non muoiono mai se muoiono siete delle teste di cazzo vuol dire che l'avete ammassata e vi siete impegnati per ammassarla cioè tutti i giorni vi siete messi lì con l'obiettivo di ammassarla siete dei cani ok? cazzo fate un taglio e buttano fuori dieci rami dietro non è bello? cioè per un neofita non è bello avere una pianta che taglia si taglia e ovviamente se concimate con i miei prodotti fate le cose bene però tagliate vi caccia fuori duecento rami avete da lavorare da fare da imparare non è una bella cosa? io sono cresciuto con gli olmi cioè io ho imparto a fare bonsai avevo quattro cinque olmi e stavo lì facevo defogliavo tagliavo è ovvio che si fa così non col pino pentafilla con la buganbina la piracanta ma che cazzo è quella roba piracanta ma che cazzo il nome è piracanta solo il nome mi tiene lontano ma è la carbona la serissa ficus ginseng ma che cazzo è quella roba che cazzo è quella roba ragazzi cioè cosa pensate di tirar fuori da quella merda ok? comunque quanto è qui? sono già cinque minuti che parlo ragazzi il discorso è semplice come vedete in giro non c'è niente da cosa comprare cioè di roba buona per carità per voi c'è tanta roba da comprare perché ancora non avete le competenze per capire quello che state comprando cioè per voi è tutto un affare perché ah 180 euro mi è andata bene ho speso poco sì ma non hai niente in mano ok? e qual è il problema cioè una cosa costa il doppio il triplo un motivo ci deve essere per forza ok? però qual è il mio obiettivo? darvi una pianta che è pronta per diventare un bonsai fine perché io sono il primo a selezionarle cioè non è che compro una pianta di merda e poi la rivendo io compro bella così la vendo se non la vendo la tengo e poi la vendo più avanti cioè capite qual è il discorso a me non me ne fotte veramente un cazzo perché comunque sia faccio bonsai le piante mi sono per fare i video per fare i videocorsi per rivenderle a volte quando ho voglia però questa mi è appena arrivata vi posso garantire che tutte le caratteristiche che servono per voi che siete neofiti ok? detto questo prendete la pianta prendete i concimi il substrato prendete quello che vi serve per fare bonsai sul mio sito claudiobonsai.com per quelli che mi scrivono ma c'hai anche questo prodotto questa marca ma che cazzo marca di prodotto cioè i miei li produco io cazzo il mio marchio cibi claudiobonsai marchio registrato come nike coca cola pepsi quel cazzo che volete è roba mia punto ok? no ma li produce è grazie al cazzo mica su di mica io mi metto in bagno cago nei flaconi e poi in bottiglio non si può fare quella roba ragazzi non si possono fare i travasi quelle cazzate lì ok? tra l'altro visto che vende in tutta Italia ha voglia ha voglia fare 2-3 mila flaconi quanto cazzo devo cagare? cioè è veramente una cosa estenuante mi è disidrato ok? a parte le cazzate ragazzi se avete un olmo fatto bene questo è cioè un olmo così non lo trovate in giro ok? costa giusto fidatevi che vi divertite con questo pianto ok ragazzi? questo mese è videocorso gratis c'è il nuovo prodotto bulk master per cui vuole già fare il carico anche per l'estate c'è metamorfosi 9,90 euro cazzo prodotto della madonna fino all'anno scorso era il miglior prodotto miglior prodotto estivo ok? per quelli che dicono no ma in estate i bonsai non vanno concimati e io c'ho un concime estivo chi ha ragione io ho prodotto dal 2018 fino adesso ho prodotto 6 prodotti estivi ma che cazzo avete nella testa non si concime in estate se esiste un concime estivo più di così che cazzo vi devo raccontare ok? claudio bonsai.com scrivetemi in privato se avete voglia di fischiare costa al giusto non fa male anzi vi fa solo bere una pianta come questa ok? diventerà un mostro esagerato c'è un sacco di dettagli poi grossa grossa bassa spessa bella corteccia e vaffanculo ok? ciao a tutti grazie 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 a tutti.